Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendaro Incallito Allora, oggi siamo arrivati alla terza puntata di questo gameplay di The Legend of Zelda Link's Awakening Devo dire che mi sto divertendo tantissimo Quindi, mentre la partita carica, ripercorriamo quello che è successo nella scorsa puntata Nella scorsa puntata abbiamo recuperato il babau di Madame Miao Miao E dopo aver esplorato la grotta della giara abbiamo ottenuto il super bracciale e il corno conchiglia Il super bracciale infatti sarà utilissimo perché potremo esplorare aree che non abbiamo ancora esplorato Quindi, veramente fantastico Cosa succede? In questa puntata dovremo recuperare la campanella del giglio di mare Che è un altro di questi, degli strumenti musicali, delle sirene Allora, quindi adesso siamo riusciti ad accedere a quest'area qua che non avevo mai visto Proviamo un po' a vedere chi c'è dentro E quindi però, per farlo dovremo addentrarci nella caverna della chiave Dove terremo anche i calzoni di Pegaso che ci saranno utilissimi per esplorare le zone non ancora esplorate Quindi, parliamo con questa ragazza qua, non so chi sia Si chiama Rosa E qua dice Ma ciao Bamboccio, io sono Rosa Capricciosa e vendo una cosciuccia segreta che ti darà la carica Se vuoi il mio piccolo segreto mi devi dare 42 rupie Vabbè, proviamo Bene, bene, vieni qui che ti spalmo addosso la mia pomata segreta Farà effetto quando non avrai più cuori e non dimenticare di tornare a trovarmi Bamboccio Quindi praticamente è tipo una fata E per te e solo per te ci aggiungo un trattamento speciale Guarda tutti i tuoi cuori sono tornati Vabbè, io li avevo già tutti però Grazie comunque per il pensiero Bene, quindi con questa crema Adesso vediamo se c'è nel menu Sì, c'è, eccola qua Pomata segreta La pomata speciale di Rosa Quando ti senti a terra ti riempi di energia vitale Perfetto, quindi quando i nostri cuori si azzerano C'è lì e rimetterà tutti quanti Perfetto Quindi noi proseguiamo verso il villaggio Perché per ora voglio riportare il Cateniaccio Oppure il Bao Bao Come lo chiamano qua Alla Madame Miao Miao Quindi insomma tutti questi nomi abbastanza ridicoli Quindi proseguiamo verso sud Qua abbiamo ancora queste talpe zombie Che fanno un sacco di paura E adesso qua finalmente possiamo Possiamo sollevare quel masso lì finalmente O in generale tutti i massi Perfetto Quindi andiamo a dare un'occhiata Cosa c'è dentro questa grotta Che non l'avevo mai visto Uh ok, perfetto C'è un bel Un bello scrigno Però Io lo farei Vediamo Da dove possiamo partire Allora io spingere Allora io spingerei questo Così riusciamo a passare di qua Dopodiché io sposterei lui Lui Questo qua adesso possiamo sollevarlo E dopo E dopo Uh mi sa che mi sono Incartato Infatti mi sa che è meglio che Ci riproviamo Perché Non ho fatto bene i calcoli Vabbè però intanto Non prendiamo lo scrigno Ma almeno prendiamo Il portacuore Quindi Vediamo un po' come fare Io sposterei Ok Eh no Non si può Ah no Sì 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 Ecco Spostiamo questo qua Questo qua Lo scheletro Lo togliamo E abbiamo trovato Un altro portacuore Un frammento di cuore Scusatemi Quindi in teoria Esatto Siamo arrivati a un cuore in più E abbiamo scoperto La prateria Uku Uku Che è quella Che ci indicava Il gufo Ehm Quando abbiamo battuto Il boss Quindi direi che dopo Ci addentriamo qua Però Nel mentre Riusciamo E proviamo a prenderci Questo scrigno Perché Sono curioso di sapere Che cosa c'è dentro Vediamo un po' come fare Ora vabbè Allora diciamo che possiamo Spostare questi qua Ok Lui Lo togliamo Ed ecco qua Siamo arrivati Allo scrigno Perfetto 50 lupie Vabbè nulla di Particolarmente prezioso Però ci faranno Sicuramente comodo Anche perché Penso che ci sarebbero Utili delle bombe Quindi Non sarebbe Non sarebbe male Trovarle Quindi adesso Proseguiamo Per di qua E andiamo Eccolo qua Siamo già al villaggio Mabe Quindi Prima di tutto Riportiamo Il cateniaccio Oppure il Bao Bao Alla Madame Miau Miau E da qui Che procediamo A comprare Queste bombe Perché sicuramente Ci saranno Molto utili Perfetto Eccola qua E ci dice Oh Apprezzo molto Quello che hai fatto Per il mio caro Tenero Bao Bao Sei un ragazzo Proprio per bene Ecco una piccola Cosa c'è per te Ah ci da un bacino Hai ricevuto Una bella Ricompensa Madonna Miau Miau Che c'è Non sei contento Che Che bello Bello Vedo un po' Arrostito Va bene Quindi Usciamo E andiamo A comprare Queste bombe Darei anche Un'occhiata E vedi Adesso non ci attacca più Sei felice Di vederci Allora Io darei anche Un'occhiata Al gioco Questo qua All'arcade Adesso non so bene Come chiamarlo Comunque Vediamo un po' Cosa c'è di nuovo Ok c'è il portacuare Che non siamo riusciti A prendere l'ultima volta Quindi direi di Procedere a prenderlo E poi Un modo molto veloce Di guadagnare Rupie E prendere Questa Rupia Viola Perché questa Rupia Viola Ci da ben 50 rupie E se la riusciamo A prendere Al primo colpo Vuol dire che Ne guadagniamo Ben 40 Tenendo conto Dei 10 spesi Purtroppo Questa volta L'abbiamo persa Però vabbè Diciamo che 8 casi su 10 Riusciamo a prenderla Però Comunque Tentiamo di prendere Il portacuare Speriamo di avere Più fortuna Che con La rupia Comunque Se Volete un modo Veloce Di guadagnare Un po' Di soldini Sicuramente Con la rupia Da 50 È il metodo Migliore Perfetto Quindi Il portacuare Siamo riusciti A prenderlo Meno male E proviamo Yoshi O la statuina Sì un po' Pazzo Di Yoshi Eccolo qua Perfetto E infine Il nostro portacuore Così iniziamo Con il nostro Primo frammento Di cuore Adesso Prima che non abbiamo Abbastanza soldi Per comprarci Quello che vogliamo Ah ecco Qua c'è un bambino Ci dice Si chiama Ken Ken Dai Hai vinto Il pupazzo Di Yoshi È un sacco Che ci provo La mamma Ne vuole assolutamente Uno Ah beh Allora Quello lì sarà Uno dei quattro gemellini Quindi Per ora Andiamo a prendere La nostra rupiera 50 Però poi Uuu È spuntata Una Ah come si chiamano Le conchiglie Adesso mi viene in mente Perfetto E quindi poi Andremo alla casa Dei bambini Per Ridargliela È spuntata Anche questa bambolina Qua Che se non sbaglio Essendo naturalmente Un cateniaccio Dovrebbe volerla Madame Miau Miau Quindi adesso Vediamo Una Una delle meccaniche Molto interessanti Di questo gioco E quindi Il fatto che Si devono fare Molti favori Per ottenere cose indietro Quindi Anche questa meccanica È molto interessante Perfetto Però naturalmente Bisogna trovare Le persone A cui A cui servono Naturalmente Adesso Vediamo se riusciamo A prendere Questa conchiglia Oh Dai dai Speriamo Non ci scivoli fuori Oh Che fortuna Il primo colpo E vai Perfetto No basta La nostra rupia La 50 A questo giro Non c'è Però ci accontentiamo Di questi due Perfetto Statueta di yap yap Perfetto E anche una Conchiglia Perfetto Va benissimo Quindi Adesso Andiamo A mettere Questa statuina Perché so già Chi la vorrebbe Dopodichè andiamo A vedere Alla casa Di questo bambino Chi vuole Il peluche Di Yoshi Perfetto Quindi come potete vedere Ci sono questi Piedistalli E infatti Servono per Le statuine Che noi possiamo Tenere All'interno Del gioco Infatti In questa qua Ad esempio Sopra c'è scritto Bao Bao Ma in questa C'è scritto Sopra yap yap Quindi Noi Ci chiederà Se la vogliamo Esporre E noi la esponiamo Così Diciamo che Tra virgolette Abbiamo completato Una di queste Missioni qua Che tra virgolette Si potrebbero chiamare Tipo dei favori Perfetto Quindi adesso Andiamo Alla casa Dei ragazzini Che dovrebbe Essere qua Più in alto Perfetto E vediamo Se vogliono Questo Yap yap No Scusatemi Lo yap yap L'ha ben giornato Il peluche Di Yoshi Vediamo Ma che bello Vuole regalare Quel pupazzo Di Yoshi Il mio figlio Beh certo Oh grazie Che persona generosa Che sei Ecco Prendi questo In cambio Un fiocco Come quello Del Dello yap yap Quindi so già A chi andrà Perfetto Eh lo so Con quattro bimbi Che si somigliano Oppure io a volte Mi confondo E beh immagino Chi è lui Sarà il marito Suppongo Già O conosci già I miei ragazzi I miei ragazzi Io sono il padre Mi chiamo Papari Più tardi Mi incontrerai Bloccato tra le montagne Perciò Grazie in anticipo Per l'aiuto Che mi dirai Vabbè Sa già che si perde Insomma Quindi come potete vedere Anche qua ci sono altre Basi per le statuette Ad esempio qua c'è un Cupistrisce E qua c'è un Tipo timido E lì sopra Ce n'è un'altra Ancora E anche una sul tavolino Quindi in generale Sappiamo che se raccogliamo Una di queste statuette Sicuramente qualcuno La vorrà Adesso Volevo fare un salto Prima di ritornare Dalla signora Miao Miao Al negozio Per vedere se c'è qualcosa Di interessante Oh Quindi come vi dicevo Noi abbiamo bisogno Sicuramente delle bombe Quindi Con 10 rupie Noi adesso compriamo Queste 10 bombe Mi sa che ne comprerò Due Quante è che costa Oh no La pala Non riusciamo a permettercela Però Per ora 20 bombe Andranno più che bene Perché C'è Una Una zona Dopo ve la farò vedere Che bisogna per forza Arrivarci con le bombe Quindi Va bene Quindi allora Qua abbiamo ottenuto Le bombe Che dicevo E adesso Andiamo a dare Questo fiocchetto Che è uguale A quello della statuina Dello yap yap Quindi lo yap yap Stia qua di fianco Nella specie di stalla Eccolo qua E qua dice Quanto mi piace Ghindarmi Sono carina Vero? Che bello Quel fiocco È troppo carino Lo voglio scambiare Con il mio cibo Per cani Beh devo dire Che non è molto Uno scambio da pari Però Suppongo che andrà bene Meno male Grazie Ecco a te Il tuo cibo Per cani Grazie mille Perfetto Va bene Quindi Ritorniamo fuori E Cos'è che volevo fare Allora C'è Una parte Che Ha dei massi Da rompere Adesso Ah si si È quello Quello lì Che abbiamo esplorato Prima Con il dungeon Che abbiamo esplorato Prima Però Mi incuriosisce Pure questa costruzione Qua Vediamo che cos'è Ok Santuario dei sogni Vediamo un po' Che cos'è Sono molto curioso Ah È un labirinto E ci sono Questi cosi qua Che ci imitano Però Però sicuramente Li possiamo saltare Ok Ma perché qua Ne abbiamo due di fila Ok Oh Questi qua Mi sa che sono più difficili Ok Ah Se si fa così Li si può uccidere Ah perfetto Ottimo a sapersi Ok Così almeno Ci rende anche Il lavoro più facile Perfetto Adesso questo qua Lo uccidiamo Pure lui Perfetto Qua Facciamo un bel salto Oh no Urca ma quanti danni fanno Ah però noi avendo la 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 pozione Oh eh Abbiamo ricominciato No 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 Allora facciamo che ci riproveremo Un'altra volta Sicuramente adesso Al momento Non riusciamo A ottenere Quello che c'era al centro Che non ho neanche visto Cosa che era però In ogni caso Ci riproveremo Più avanti Bene Quindi Ah C'è anche Una parte Che non abbiamo esplorato Nel bosco misterioso Ah Che devo dire Che è molto Sono molto curioso Di sapere Che cosa c'è dentro No Qua c'è il Pescatore Quindi direi di andare Subito proprio all'inizio Però è una zona Che è bloccata Da un masso Che naturalmente All'inizio Non avendo il Bracciare del potere O della forza Adesso non mi ricordo Esattamente come si chiama Non potevamo esplorare Però Adesso si Una ruppia da 5 E una da 1 Perfetto Quindi qua c'è un bello Schirigno Vediamo cosa c'è dentro Ok Un'altra conchiglia Perfetto Una conchiglia nascosta Sono molto curioso Di sapere A che cosa serviranno Queste conchiglie Insomma Prima o poi Lo scopriremo Perché Ovviamente Sono decollezionabili E serviranno Per completare la storia Però Non so bene A cosa servono Bene Quindi adesso Direi che per andare avanti Nella storia Siccome insomma In città abbiamo già passato Un po' di tempo Direi di proseguire Verso est Dove c'è la zona Che ci ha indicato il gufo Che è la prateria Uku Uku E sono molto curioso Di sapere Che cosa si nasconde lì Eccoci qua Quindi Adesso che abbiamo ottenuto Le bombe Possiamo Ritornare qua dentro Se non sbaglio Era questo qua Ah no Non era questo E' un altro dungeon Che si può superare Solamente Se si hanno Le bombe Perfetto Quindi Uuuuh Qua c'è un piedistallo Vediamo un po' Che cosa fa Ok Percepisci una strana energia Provenire da questo piedistallo Deve assolutamente Scoprire di cosa si tratta Ah ecco Il teletrasporto Che abbiamo trovato Dove c'è la capana Di Danpei Perfetto Quindi adesso Ci potremo Teletrasportare Comodamente Se troviamo Una di queste Una di questi Di questi piedistalli Diciamo Sono curioso Di sapere Se ce n'è un altro Nascosto In questa zona Perché qua Ancora Non ne ho trovato uno Può darsi che è questo Ma non ne sono sicuro In ogni caso E sono molto curioso Di vedere Se riusciamo A scoprire Dove Dove ce ne sono altri Perché sicuramente È comodissimo Per Viaggiare Più rapidamente Ok Qua vedo Che c'è un Un labirinto Un sacraio Però qua dice Serratura viscida Quindi per ora Non possiamo entrare Però vabbè Proseguiamo Verso sud Qua non possiamo passare Qua dice Il testo È dall'altro lato Vabbè ovviamente Ok Allora qua c'è un C'è un buco Ma non possiamo Attraversarlo Proprio perché C'è un masso di lei Quindi cadremmo Quindi io Lascerei stare E andiamo Quaggiù che vedo Una casa Abbandonata E un giardino Interessante Ha sul Un simbolo Di una campana Sia mai che magari È il prossimo Qua dentro C'è il prossimo Oggetto Uh Quante rane Ok Vediamo cosa ci dice Allora Lui si chiama Richard Perfetto E dice Salut Oh ma non far caso Alle circostanze Del nostro incontro Credi a moi Il castello È la mia vera casa Ahimè I miei servitori Sono diventati Dei mostri E io mi sono visto Costretto A ripiegare In questa Humile Dependence Tu cosa ci fai Sì Cerchi una chiave Uì Potrei aiutarti Se prima Tu aiuterai me Vorrei che Recuperarsi La foglia d'oro Che ho lasciato Nel castello Dopo l'invasione Dei mostri Che ne dici Va bien Fantastic Or bene A essere precisi Le foglie sono cinque Eh vabbè Allora Scusami Parla chiaro Sin dall'inizio E io le voglio tutte Ah E un'altra Piccola cosetta Prima di tornare Assicurate di avere Una pala Ok Quindi Quando dobbiamo tornare Abbiamo una pala Però vabbè Per ora non ci serve Va bene Quindi Direi di proseguire A est Perché se non sbaglio Il castello Dovrebbe essere Ok Qua c'è il campo di buca Il castello dovrebbe essere Qua Se non sbaglio Quindi Avventuriamoci giù di qua Lì c'è pure un portaquare Che sicuramente Sarà molto utile Ok Qua abbiamo altri Mostricciattoli Uno addirittura Che spunta le bombe Cavolo Ok Allora Uh Urca urca Cosa esce dal terreno Che paura Oh mamma mia Vediamo un po' Cosa c'è giù per di qua Ok Ci sono un sacco di Boblin Grublin Quelle cose lì Ok E qua c'è un punto Che non possiamo attraversare Perché non Abbiamo Non abbiamo Una specie di Rampino Cos'è che è Ok Uccisi tutti Qua ce ne sono altri Cavolo Ma quanti Non Non va Fa nulla Perfetto Vediamo un po' Uh Lì vedo Un qualcosa Che cos'è Boh Non lo so Che cos'è Vabbè Allora qua abbiamo trovato Un'altra conchiglia Perfetto E vediamo Che cos'è questa qua Sembra proprio Come le conchiglie Che abbiamo Ma qua è uscito Parla Ah oh mamma mia Che spavento Va bene Ti rilevo Ti rivelo un segreto Se vedi un bracere Nel mezzo di una grotta Sbarcici sopra Della polvere magica Così farà il solletico Al tipo che ci vive dentro E lo farà E balzare fuori Ah interessante Pure quest'albero qua Parla mi sa Va bene Ti rivelo un segreto Puoi usare la tua spada Per pungolare le pareti Dei labirinti Se trovi qualche punto In cui senti un rombombo Un rimbombo Significa che puoi Frantumare la parete Con una bomba Perfetto Buona sapersi Bene Entriamo in questa casetta qua È disabitata Però lì a destra Vedo tipo dell'acqua verde Qua dice La magione è sempre disabitata Ma d'improvviso Senti rimbombare una voce Io sono lo spirito Che risiede Nella magione delle conchiglie Stavo aspettando Qualcuno In grado di sfidare L'oscurità Trova le conchiglie Nascoste sull'isola Portale qui E sali sulla piattaforma Se ne sarai degno Riceverai una spada Con il potere della luce Wow interessante Insomma Devi tornare con un sacco Di conchiglie E poi montare sulla piattaforma Vediamo cosa succede Il riassunto è questo Vediamo adesso Cosa succede Ok Non succede niente Forse non hai abbastanza conchiglie Vabbè Siamo già più o meno Al primo contatore Quindi Direi di tornare un'altra volta Con altre conchiglie Va bene Adesso questi qua Per l'ora Li ignoriamo Perfetto E vediamo un po' Cosa c'è di qua Qua c'è una Scignetta Chichi fame Vabbè Suppongo che vorrà Delle banane Quindi Ah Penso a te Perfetto E qua c'è il Castello dove dovremo Entrare Però io non vedo Via d'entrata Quindi Allora Ah ecco Dice pure l'entrata Ma è ovviamente Troppo lontano E non ci riusciamo Ad entrare Quindi Io direi che Per ora Andrò in cerca Di queste Di queste Banane Che cerca La scimmietta Che può darsi Che ci darà aiuto Anche perché Non vedo Altra via D'entrata Quindi secondo me Sarà proprio La scimmietta L'aiutarci Vediamo Io qua vedo Uno scheletro Però è rotto Proviamo a metterci Su una bomba Uh Ha funzionato E vai Perfetto Quindi questa qua Un'altra zona Che non abbiamo visitato Con tutti questi mostri qua Che io naturalmente Eviterò Perfetto Quindi allora Io per ora Vi lascio qua E tornerò Al villaggio E vediamo un po' Dove sono queste banane Ok Siamo arrivati Al villaggio Mabe Vediamo un po' Se c'è qualcuno Che ci può dare una mano Proviamo a chiedere A qualcuno Ah Chi abbiamo qua Uh Delle banane Dai Dacele No Non ce le da Allora Tarin Avevo un certo Languelino E così sono andato In spiaggia A prendere Delle banane Gnam Link Se pure tu Hai fame Vai in spiaggia A prenderle Ah Bene Allora andiamo in spiaggia Sono curioso di vedere Come faremo Ok Allora Io qua non trovo Il modo di Trovare queste banane Però Direi che allora Proseguirei Verso l'indicazione Del gufo Che ci ha detto Di andare a S Dove c'è la prateria Quindi direi proprio Di seguire il suo Consiglio Quaggiù Non c'è niente Di interessante E quindi Proseguirei A seguirei Il suo consiglio E vediamo un po' Che cosa ci aspetta Di qua Allora Baia di Morsa Quindi Vediamo un po' Cosa c'è in questa casetta Sembra molto carina Ma io qua Non vedo niente Vediamo un po' Lo spartello Del comò Pende da un cardine Questo posto Sembra disabitato Da anni Oh che peccato Sembra un posto Molto carino E anche la musichetta E quella Uuu Una conchiglia E anche la musichetta E quella tipica di Zelda Ok perfetto E una conchiglia Nascosta Va bene Allora proseguiamo Verso est Anzi Prima di proseguire Verso est Darei un'occhiata A questa casa Vediamo chi c'è dentro Ah Un cocodrillo Che carino Vediamo un po' Ehi Fermi tutti Ma quello È cibo Cibo in scatola Per amor del cielo Amico Me lo devi dare Ti prego Ok va bene Grazie amico Sei troppo forte No ma non mi dire No ma se lo mangia in un boccone Non ho parole Ah Vedo che avevo una bella fame Am 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 E' squisito Senti Lo so che non è uno scambio equo Ma prendi queste banane Che bontà Oh perfetto Quindi Oh Meno male abbiamo trovato le banane Che fortuna Ok perfetto Quindi adesso Avendo le banane Possiamo tornare Dove c'è il castello E E far Darle a quella scimmietta Che sicuramente Ci darà Una mano Quindi adesso Utilizzeremo il portale Che c'è Un pochino più in là Ok Ci ha sbloccato una marea di punti Quindi abbiamo sbloccato il castello di Canelet Che è dove dobbiamo andare E la baglia di Mortha Dove noi siamo entrati Ma solamente in questo punto qua Quindi direi di ritornare al castello E vediamo che cosa ci fa La scimmietta per noi Però nel mentre che torno Proviamo a vedere se riusciamo a permetterci una pala Perché prima ne avevamo bisogno Oh 200 rupie No me ne mancano 40 Però Dai Proveremo a cercarle anche questa qua 200 Dai Vi voglio far vedere quindi Come ottenere tante rupie Vi dicevi Menzionavo prima Che per ottenere tante rupie Bisogna fare il gioco Questo qua E prendere la rupia da 50 Così Spendendone solamente 40 Spendendone solamente 10 Se ne otterranno 50 Quindi proviamo Oh vedo altre statuine Basta fare così E così E si prende la rupia E si spera E quindi così Se ne guadagnano 40 A volta Dai Speriamo questa volta Di avere fortuna Perfetto Si Se fa così L'abbiamo preso sicuro Perfetto Adesso proviamo a prendere anche Il Goomba No Si è fermato troppo in alto No Che sfortuna Vabbè Vabbè Dai Adesso ci riproviamo Ok Questa volta Sicuramente Lo avremmo preso Perfetto Il Goomba Mi pare che serva Sempre lì Alla casa Dei bambini Se non sbaglio Riproviamo A prendere Quel Pezzo Di labirinto Lì Ok Abbiamo pure preso Questo pezzo Di labirinto Fantastico Quindi Tre cose Siamo riusciti A prenderla Ok La rupia Da 50 Il Goomba E il pezzo Di labirinto Adesso Cercherò Di guadagnarmi Ben 250 rupie Con questo giochino Qua E poi Riusciremo a permetterci Sia la pala Che Cos'era l'altra cosa Che volevo prendermi Il portacuore Perfetto Perfetto Quindi adesso Ho guadagnato Un po' Di soldini E direi quindi Di ritornare Al negozio Per comprare Sia Il Cos'era Che era Il portacuore Il frammento di cuore Che la pala Perfetto Quindi iniziamo Col frammento di cuore Eccolo qua E anche La pala Come ci ha detto Richard Perfetto Poi se non sbaglio Verso la La spiaggia Avevo visto Una zona Con Un Con un muro Crepato Quindi sono proprio curioso Di vedere Che cosa contiene Col muro Crepato Adesso che possiamo Utilizzare le bombe Sicuramente Scopriremo Che cosa contiene Ok Procediamo Quaggiù E se non sbaglio Era Dov'è che era Forse di qua Sì Eccolo lì Ecco Vedete Quello Spazio Crepato Proviamo A Metterci Una bomba E sicuramente Si aprirà Un varco Vediamo Che cosa contiene Oh mamma mia Che verso Per ora Nessuno Però sono curioso Di scoprire Chi sarà Sembra A vedere Da queste ossa Non saprei Però Non scopriremo Sicuramente Più avanti Perfetto Quindi adesso Ritorniamo al castello E andiamo ad aiutare Richard Ok Eccoci qua Vicino al castello E abbiamo la nostra Cara scimmietta Banane Banane Dai a Kiki Sì Certo Banane Banane Kiki amici Viene Aiuta Kiki E dai Vediamo un po' Come ci aiuta Ah beh Molto utile Direi Così almeno Riusciremo ad entrare Nel castello Tutto fatto Ponte fatto Ciao ciao Ah beh Grazie mille Sicuramente Ci sarà molto d'aiuto E hanno lasciato E hanno lasciato giù Un bastoncino Tra residui edilizzi Scimmieschi E pensi che sia Assolutamente Imprescindibile Va bene Prima però Vorrei sbloccare Quella parte lì Che secondo me È un altro di quei Cosi per il teletrasporto Adesso che abbiamo La pala Ecco fatto Perfetto Quindi è un altro Teletrasporto Per aiutarci a Ad arrivare Più in fretta Perfetto Quindi Ritorniamo giù E attraversiamo Un ponte E scopriamo Un po' Che cosa c'è Dall'altro lato Ok Castello Canalet Aprire i segreti Qua c'è il fiume Che non possiamo Attraversare E qua cosa c'è Uh Delle scale Ah Mi sa che questo Sarà Il modo in cui Riusciremo Ad entrare Nel castello Ok Un altro livello A scorrimento Ammazziamo Questi Goomba Ecco fatto E saliamo E suppongo Che saremo All'interno Delle mura Del castello Ok Ok Qua abbiamo Dei cavalieri Ok Quell'uccellaccio Lì Oh Via 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 Eccola qua Una delle foglie D'oro Che ci chiedeva Richard Perfetto Procediamo Ok Qua c'è un altro Perfetto Ok Come potete vedere Qua c'è il simbolino Delle campanelline Che quindi indica Che sicuramente Qua Troveremo Il prossimo Strumento Ok Qua non vedo Nient'altro A parte questo Questo Cavaliere Che gioca Caccia la talpa Schiaccia la talpa Lì Com'è che si chiamava Col gioco Ok Un'altra Foglia d'oro Ottenuta Quindi siamo già A due Perfetto Ce ne mancano Solo tre Vediamo un po' Adesso Penso proprio Che procederemo Ed entreremo Nel castello E vediamo un po' Che tipo di nemici Ci aspettano Ok Ecco qua Già Uno Dei lancia lance Ai 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 Ci sento io Un sacco di cuori Ok E qua abbiamo Un'altra 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 foglia Un'altra foglia d'oro Perfetto Ce ne mancano Solo due Ok Qua abbiamo Altri cavaliere Perfetto E qua c'è un bottone Vediamo che cosa fa Ok Apre le porte Del castello Così potremo entrare Sicuramente Più facilmente Procediamo Procediamo E qua vedo Delle scale Ok Uh Qua vedo Dei punti crepati Quindi prendiamo Le nostre bombe Oh Urca Due Cavalieri Ok Però uno di questi qua Aveva la quarta foglia Di cui ne ci sentiamo Perfetto Fantastico Ok Procediamo Uh Ecco qua Questo qua è il cavaliere Che vedevamo Nell'artwork Nell'artbook Scusatemi Ok Usciamo E vediamo Come arrivare a lui Eccoci qua Ok Qua vedo Il simbolo Di una Di un Di un vaso Di un Com'è che si chiamano Mi scappa sempre il nome Di una giara Ecco come le chiamano Qua nel gioco Perfetto Abbiamo ricoprato Purtroppo solo Un cuore Però Andiamo a sfidarlo Lo stesso Ok Sconfitto Abbiamo ottenuto La quinta Piume La quinta foglia D'oro Non capisco Perché continui a dire Piume Perfetto Riportiamola a Richard Vediamo se Riusciamo a riottenere Alcuni dei nostri cuori Ma non penso E quindi E quindi adesso Che poi abbiamo Sbloccato il passaggio Sarà anche Molto più facile Uscire dal castello Oh Guarda che Però non so se te lo consiglio. Infatti Link si allontana. Oh oh. Oh oh. Infatti escono le api. Povero Tarin. Scappa scappa Tarin. Poveretto. E vabbè. Però noi intanto abbiamo ottenuto. Un alveare. Che quindi contiene dentro del miere. Non ho ancora capito bene come sia potuto accadere. Ma meglio così. Uh qua vedo una porta. Una crepa nel muro. Vediamo un po' cosa si nasconde dentro. Uh una fata. Allora non abbiamo già. Non abbiamo dei vasi. Però comunque ci ugualerà del tutto. Quindi nel futuro quando terremo dei vasi. Sicuramente se veniamo qua. E possiamo catturare una fatina. E utilizzarla nel momento del bisogno. E utilizzarla nel momento del bisogno. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ok, eccoci a casa di Richard E gli consegniamo le cinque Le foglie d'oro Ah, très bien Vedo che hai recuperato tutte le foglie Vieni adesso, sposta questa statua Di rana E troverai la tua ricompensa Ah, vediamo un po' che cosa sarà la nostra ricompensa Scendiamo E sono proprio curioso Ok, un labirinto Vediamo se riusciamo a spostarlo Questo perché c'è un Uno scherigno Vediamo cosa c'è dentro Una conchiglia, perfetto Procediamo Ok Ci troviamo di qua Oh mamma che paura Cos'è un ragno che si nasconde Sotto il Quella specie di teschio di roccia Che paura Ok, quindi adesso ci troviamo Nel giardino Però come da nome Il campo di buche avrà sicuramente Una marea di buche Quindi io non mi fido An andare troppo veloce Quindi andremo Piano piano Ok Piano piano No Ok Vediamo di qua dove ci porta Ok, qua c'è un cuore Ok, da nessuna parte Vediamo un po' Oh che paura Stavo quasi per chiederci dentro Ok Ok Ok, vabbè di qua Non c'è niente Proviamo A raggiungere il portacuori No Ah E qua come facciamo? Mi sa che non ce la facciamo Proviamo a lanciare una bomba Oh No, no Non volevo cadere Però uffa Vediamo un po' Se succede qualcosa Uh Che fortuna Però comunque Mmm Eh no Mi sa che comunque Non riusciremo No Riproviamo per l'ultima volta No Per niente Non riusciamo ad arrivarci Quindi comunque Dovremo aspettare Perfetto Quindi Procediamo per di qua E Parliamo con questo gufo Non sempre le cose nascoste Sono andanti al proprio naso A volte si trovano anche sotto i propri piedi Ha Sia mai che c'è qualcosa Qua sotto Vediamo un po' Uh Ok Hai ottenuto la chiave viscida Adesso puoi aprire il cancello Nella parteria Uku Uku Perfetto Quindi Direi proprio di Proseguire di nuovo Per di qua E andiamo ad aprire Questo Questo dungeon Che sicuramente Sarà impegnativo Da esplorare Eccoci qua Alla parteria Uku Uku Era proprio Sopra la casa Di Richard E apriamo quindi Questo dungeon Vediamo un po' Che cosa ci nasconde Ok Perfetto Però mi sa che dovremmo fare il giro Naturalmente Non è sempre facile Dovremmo fare il giro Dal Dal lago Dal fiume Quello che c'è Lì a destra E speriamo di poterlo raggiungere A sto punto Il telefono per ora Non ci interessa Vediamo qua che cosa c'è Uh Una conchiglia E vai Perfetto E di qua Urca no Con tutti questi buchi Sicuramente non riusciremo a raggiungerlo Allora direi di proseguire giù per di qua E anche di qua Non riusciamo a raggiungerlo Però Uh Bene Abbiamo un altro Teletrasporto Nella baia di Marta Ok Vediamo se Ok Eccoci qua Siamo arrivati al Laghetto Quindi vediamo di Fare un po' di salti E eccoci qua Abbiamo raggiunto L'entrata Entriamo Nel Nel dungeon Che si chiama Vediamo un po' Caverna della chiave Perfetto Quindi direi che il nome è abbastanza chiaro Lanciando questo Si apre Però mi sa che prima Esploreremo la stanza di qua Ah Urca Ok Ci lancia via Ok Ok quindi direi che non riusciamo A raggiungere Quella Quello scrigno lì Però Nel mentre Cerchiamo un cuore Che sicuramente non ce lo darà Però ci ha dato un sacco di bombe Perfetto Perfetto Oh Siamo attenzione Ok Perfetto Abbiamo ottenuto Lo scrigno Ok Ok Una piccola chiave Fantastico Quindi Direi proprio che iniziamo bene Bene Guardiamo prima cosa c'è in questo corridoio Ok Non riusciamo a superarlo Purtroppo Quindi direi di Ritornare in qua Ok Ok Perfetto E lo scrigno Fantastico Oh Uh Era uno scrigno finto Ecco Perfetto Andiamo di qua Ok Qua vedo dei blocchi colorati Quindi Suppongo che per ora Non riusciremo a Rientrarci Qua lo spinge solamente più in là Quindi non è per niente utile Proseguiamo Verso l'alto E qua abbiamo due Scheletrini antipatici Ok Qua però non ci da nulla Perché suppongo ci sia Quella Quella Gu di là Ok E di qua come facciamo Eh non si può Perché c'è lui Quindi direi che non ci resta altro Che scendere Ok Uh Perfetto Una aliena protettrice Ok E con L'unica chiave che abbiamo Direi di aprire una porta a caso Ok Uh Che antipatici Ok Come facciamo Proviamo un po' con le bombe Vediamo un po' Olè Ok Ok E uno Ok E Oh Andiamo un po' E due Perfetto Ci siamo riusciti Ok Uh Ricopriamo la chiave Prima che cada Non cadere Non cadere Oh Meno male Uh Per un pelo Oh mamma mia E' partito il mio google Perfetto Quindi apriamo la pagina La La porta qua sotto Ok Abbiamo altri di questi Antipatici Quindi io direi di Posizionare la bomba qua No Mi sa che non lo raggiunge No Allora la posiziono No Neanche Allora Proviamo a mandarla per di qua Ok Vediamo se così riusciamo a sconfiggerlo Perfetto Tutti sconfitti Ok Suppongo che abbiamo sconfitto pure l'ultimo Così abbiamo mantenuto la chiave Un altro frammento di forza E recuperiamo questa chiave Perfetto Procediamo con il prossimo Con la prossima porta Vediamo cosa c'è di qua Ok Ok Via uno Ah Via due Perfetto E proviamo a uccidere qualcosa lì Con la bomba E uno E dai E due Perfetto Però non c'è dato nulla Vabbè Ok Eccoci qua Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo cosa c'è da fare qua Ah ok Perfetto Un'altra chiave Perfetto 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 Procediamo a nord E prima Qua sinistra Perfetto E abbiamo tenuto un'altra chiave Fantastico Proseguiamo In questa porta qua Perfetto E adesso però Lo schegno ce l'ha messo là in alto Vediamo un po' Come facciamo a raggiungerlo Ok Aia Perfetto Prendiamo queste bombe Che ci saranno sicuramente utili Qua c'è un ufo Senza becco Quindi Purtroppo non ci potrà dare consigli Però io recupererei subito La chiave O almeno Sì No Lo schegno Non c'è nessuna chiave 50 rupie E Proviamo ad andare verso sud Ok Qua c'è una via Ci sblocca la via di uscita Però Andrei prima a dare un'occhiata Qua a destra Che c'era un altro passaggio Vediamo un po' Ok Uh Li vedo un muro Crepato Proviamo Perfetto L'abbiamo aperto E lì c'è un altro di quegli scheletrini antipatici Però qua non riusciamo ancora ad accederci Quindi Torniamo indietro E vediamo un po' come fare Va bene Direi di proseguire qua Verso nord Uh Abbiamo Un boss Da quanto vedo Ok Quindi se loro le ingoiano Sicuramente gli fa male Aia Le bombe le sto per finire Mi fregano eh Ok Uh Uno è andato Prendiamo la fatina Et voilà Perfetto Abbiamo sconfitto questo Tra virgolette Miniboss Qua c'è aperto anche Il passaggio E vediamo Cosa Si può fare qua Nulla Quindi Direi di proseguire Per la porta qua a destra Ok Allora Hmm Qua vedo Un po' di blocchi Da spostare Proviamo a fare così Perfetto E otteniamo Uh I calzari di Pegaso Oh finalmente Quello che siamo venuti qua Per trovare Tieni per muto L per scattare Poi anche Compri i salti più lunghi Fantastico Questi cuori qua Non ci servivano Ma fa nulla E con questi Potremo anche rompere Questi stupidi Cosi mollosi Che non so bene Che cosa siano Perfetto Allora Uccidiamo Questi antipatici Perfetto E Vediamo Qua Il gufo Non ha il becco Però perché Fa un più Proviamo Ah Vediamo di qua Mi sa di no No Infatti però Verso sud Si Oh ok Perfetto Un altro Di quelli Della forza Uh Due cuori Meno male E qua Con Uh Qua c'è un'altra Porta nascosta Vediamo un po' Ah ok Perfetto Ci ha aperto Un passaggio diretto Per l'entrata Però io adesso Qua Proviamo a fare Un salto Perfetto Con i calzari E la piuma E apriamo Questo Forziere Che ci da Uh La chiave Del boss La grande chiave Fantastico Non so se riusciamo a saltarlo Questo però No Oh mamma Upsis No Non si riesce a saltare Però Va bene Perché Adesso Proseguiamo Super di qua Ai 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 Ci ha fatto Ci ha fatto un po' di male Però nulla di particolare Proseguiamo Per di qua Ok Apriamo questo Scrigno Uh Perfetto Abbiamo la bussola Così possiamo vedere Dove ci sono i diversi Scrigni Ok Ok Qua Li abbiamo presi Uh Guarda qua Uno Due E tre Ancora non li abbiamo presi Sono curioso di vedere Ehm Cosa contengono Però Per ora Proseguiamo Per di qua Perché abbiamo Perché abbiamo altre Di queste Bombe antipatiche Ma perché Vengono sempre Contro di me Questa cosa La devo ancora capire E perfetto Abbiamo una terza Chiave Va bene Questi calzali Ci saranno sicuramente Utili Ok Proseguiamo Per di qua E tagliamo Per di qua Così facciamo prima Ok E direi che possiamo Provare a sbloccare Tutti questi Quadrati qua Vediamo un po' Dove ci conducono Mmm Ho paura che ci manchi Ancora una chiave Infatti Quindi direi Di tornare Indietro Perché qua Ce ne sono ancora Uno Due Tre E quattro Di scrigni Che non abbiamo ancora Ottenuto Quindi direi Che del lavoro Da fare Ne abbiamo ancora Che del lavoro Ok Quindi direi che Purtroppo qua Non abbiamo una chiave Peccato perché Ero sicuro Di poterla sbloccare Però vediamo Di trovarne un'altra E speriamo Che riusciamo Anche a risolvere Quest'enigma qua Perché sono proprio Curioso di sapere Che cosa Troviamo In quello scrigno Perfetto E per ottenere Lo scrigno Di qua Dovremmo Uccidere Il Il Gu Che c'è di là Però Per ora Ok Anche di qua Non riusciamo Ad accederci Però Quei cosi Lì Riusciremo A A A Come si dice A romperli Perché non esplodi Ok 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 Uno Due E anche Il Go Perfetto Così abbiamo ottenuto Lo scrigno Di là E Riusciremo Anche a ottenere Lo scrigno Di qua Se non sbaglio Esatto Ah no Ah no Non riusciamo Però Sblocchiamo Il passaggio Almeno Almeno Quello Prendiamo Questo scrigno Qua E cosa c'è Urca Una rupia D'oro Che vale 300 euro Wow Siamo ricchi Ok Quindi in teoria Adesso Questa Ah no Non questa Ma quella Ancora prima Dovremmo Riuscire A Completarla Vediamo Un po' Sì Questa qua A destra Che C'era Il C'era Lui Oh Bisogna Comunque Fare Attenzione Ok Fantastico E abbiamo Tenuto Una piccola Chiave Che sicuramente Ci sarà Utile Perfetto Quindi Questa L'abbiamo Tenuto Questa L'abbiamo Tenuto Ci manca Lui E lui Che però Suppongo Troveremo La soluzione Nella Nei Nell'enigma Al piano Di sotto Ok Sblocchiamo Anche Questa Porta Ok Abbiamo Altri Nemici E Otteniamo Un'altra Piccola Chiave E possiamo Finalmente Sbloccare Le parti Che non Riuscivamo Ad aggiungere Ok Vediamo Se c'è Un cuore Anche Nell'altro Perfetto Vediamo Cosa c'è In questo Schegno C'è Il becco Di pietra Che così Potremmo far parlare Il gufo Ci potrà dare Una mano Perfetto Qua c'è un frammento Di forza E Allora Quale che non avevamo Sbloccato Questo qua Perché C'erano i cubi Che ci bloccavano Perfetto E Ok Abbiamo tenuto La mappa Del labirinto Fantastico Così Sapremo Dove si Trovano Tutte le parti Che non abbiamo Ancora sbloccato Bene Quindi adesso Per tornare Nell'area Dove eravamo Prima Prenderò Il portale Che sicuramente È più veloce Eccoci E Adesso Dovremmo Prendere Quest'ultimo Quest'ultimo Come si dice Cubo Che è chiuso E Riusciremo Spero Oh mamma mia Ok E riusciremo Ad accedere A quella Scala Lì Che ci porta Verso giù Che spero Conterrà Il boss Ok Scendiamo Perfetto 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 Procediamo Procediamo Nella stanza Del boss Ok Chi sarà Questo boss Nananananana Nananananana Non mi vedi Non mi vedi Finchè le pareti Non tremano Ah beh Io ho la soluzione Tadaa Ahahahah E guarda un po' Chi c'è Pensavi di fregarmi Il melmocchio Il melmocchio Oppalai Ok Li abbiamo divisi Uno Due Tre Quattro Perfetto Sconfitti Dai questo qua Non era difficile Su Perfetto Uh Abbiamo tenuto Un porta cuore Intero Fantastico E vai Così abbiamo Due Quattro Sei Sette Cuori E abbiamo Tenuto Anche Lo strumento Delle sirene Che ci serviva La campanella Del giio Di mare Fantastico Bene Ok Immaginavo Che il guffo Ci venisse a parlare Vediamo un po' Che cosa ha da dirci Allora Quanti strumenti musicali Hai recuperato Finora Solo quando Suonerai Gli otto strumenti Al cospetto Dell'uovo Il pesce vinto Si desterà E tu Giovanotto Potrai lasciare L'isola Adesso Dovrai Inoltrarti Nel deserto Di Yarn Il cammino Ti sarà mostrato Dagli oscuri Mostruosi Abitanti Delle sabbie Perfetto Quindi Direi che Nella prossima Puntata Andremo Proprio lì Perché sicuramente Ci sarà Il prossimo Strumento Benissimo Quindi adesso Con questi calzari Potremo finalmente Esplorare Aree che Non siamo ancora Riusciti a esplorare Però per ora Direi che La nostra puntata Può terminare qua Siamo finalmente Riusciti A ottenere La campanella Del giro di mare Quindi siamo A ben Ups Scusatemi Tre strumenti Il violoncello Il corno E la campanella Che dice Una campanella Dal suono Rinfrescante Perfetto Quindi vi ringrazio Tantissimo Di aver guardato Questa puntata Gameplay Di The Legend of Zelda Link's Awakening Mi raccomando Se vi è piaciuto Lasciate un bell Mi piace Lasciate giù I commenti Consigli Domani Opinioni Tutto quello che volete Fatemi sapere Se volete che continuo Con questa serie Perché mi sto divertendo Veramente tantissimo E mi raccomando Non dimenticatevi Di seguirmi anche Su Instagram E Facebook E mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Ciao ciao